Appena ho avuto la notizia, sono andato in giro per casa a cercare un po' di testimonianze, mail, una foto che avevamo fatto insieme qualche tempo fa, in occasione della presentazione a un suo libro a Bologna e poi mi sono detto che non era il posto in cui andava cercato, né tantomeno riesumato, perché non c'è niente da cercare, non c'è niente da resumare. Infatti poi sono andato su, dove ci sono tutti i suoi libri, ho ripreso un nome da Torero e non sono proprio più riuscito ad abbandonarlo, me lo ricordavo diverso, forse, come dire, meno presente, quindi sono certo che non è morto. Grazie.